La farmacia del Tricolle continua a rinforzarsi. L'addio della coach Nunzia Paparo causa motivi personali non è stata una notizia accolta con gioia, ma la squadra di Ariano non molla e oltre ad annunciare nelle prossime ore il nuovo allenatore inizia a formare la squadra per il prossimo campionato. Dopo la conferma di Carolina Scibelli e in attesa di altre permanenze delle giocatrici dello scorso campionato, che non saranno comunque molte, in ottica prossima stagione arriva un nuovo rinforzo. Si tratta dell'ala piccola Camille Sescute, classe 1998, alta 1,77 m, lituana ma tesserabile anche da italiana. La giocatrice arriva ad Ariano forte delle sue esperienze a Ragusa, Viterbo, Forlì e Salerno. Ma soprattutto arriva dalle due strepitose stagioni disputate nel basket Capri, dove è risultata essere, con una media di 13 punti a partita, una delle migliori giocatrici del campionato di Serie B.